Ehi, 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 ehi... Bene e benvenuti! Ehi, bene ehi, ehi, bene ehi, benvenuti! Grande pino! Sono torniato! Sì, a grande richiesta, il vocalist numero uno al mondo, colui che ha insegnato a mixare a David Goethe, sia Bob Sinclair a Tiesto Armin Vansburen, ma soprattutto ho insegnato a mixare all'uomo più elegante e ben vestito del mondo, Mr. Paolo Noyes, Mami Alciwello, sono DJ Pino Master Flash, il vocalist che racconta i cazzi dei conduttori del programma, ma anche quelli degli ascoltatori, e allora mettetevi comodi, portiamo! Tu, 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 se anche tu, convinto di essere solo nel tuo studio radiofonico di Miami, ti metti a cagare a porta aperta, ma quel genio di tua moglie porta due clienti super incravattati, a visitare lo studio, e ti trovano a cag... ...all'aria! Uh, benvenuto! Figuro, signora! Sei come Mazzoli! Uh, sei dei nostri! Sei anche tu! Dopo una noiosissima telefonata col tuo capo, quando finisce la conversazione esclami, sto coglione di merda, quanto mi rompe il car... ...ma ti accorgi che non hai messo giù, e stai ancora in linea! Uh, benvenuto! 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 Figuro di merda, sei dei nostri! C'è anche tu! Ci provi per anni, con la donna dei tuoi sogni, le mandi fiori, la inviti a cena, le scrivi cose romanticissime, sperando che sia la volta buona, ma lei un giorno ti risponde... ...sai, ti vedo come un amico, e poi in questo momento non ho tempo per una relazione... Ma poi la becchi a limonare e segare un tuo amico in un parco, solo perchè è più ricco e più figo di te! Uh, benvenuta! Sei una puttana, 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 sei una puttana, 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 puttana! C'è anche tu, con l'ormone a mille, da buon ventunenne, conosci una tipa e te la sbatti in mille modi per tutta la notte in riva al lago, è finito tutto, vedi che lei prende un casco da un bauletto di un motorino, e allora preso dal panico, le chiedi quanti anni ha, e lei ti risponde, quattordici! E tu inizi a correre, ti tuffi nel lago e a nuoto arrivi dall'altra riva, sperando che non ti becchino mai più, uh, benvenuto, uh, sei un porco come Alan Caligiuri! E anche tu, metti 50 euro di benzina nel serbatoio, ma solo la mattina dopo, quando la macchina inizia si inghiozzare e a fare strani rumori, ti ricordi che vaga, soglio! Vestemmione che oscura il chiuero! Briavo, benvenuto! Uh, sei dei nostri! Se anche tu, entri nel tuo bar di fiducia, e vedi per terra una traccia di ruota di bicicletta, e urli al gestore, ma chi è quel coglione che è entrato in bicicletta? Tutti in silenzio, ti giri, e c'è uno in carossina! Uh, benvenuto, tu non sei dei nostri, sei una merda cinico! E signori, per finire, se anche tu pensi di essere un tipo stiloso, e ti vesti sempre uguale da circa sette anni, maglietta nera, collane da zingaro e pantaloni militari, emulando Armani, Brad Pitt, e altri fighi del mondo dello spettacolo, ma essendo grasso e mostro, assomigli più ad un sacco dell'umido di un campo nomadi! Ce lo sia! Ce lo sia, che benvenuto! Sì, sei lo strabicone! Sei mister Paolo Noyes! Ma quale stiloso! Ma quale stiloso! Ma porca troia, che se ti metti di fianco ai bidoni della spazzatura ti portano via col camion! Pirva!